Ciao e bentornato sul mio canale YouTube, oggi iniziamo una nuova miniserie dedicata ai chetoni esogeni, argomento che è molto in voga in questo periodo e dunque necessita di un po' di chiarezza. Sigla! Ho deciso di fare questa miniserie perché in praticamente tutte le dirette e sotto i commenti dei canali YouTube, sui video e nel gruppo Facebook e sostanzialmente ovunque io abbia pubblicato un contenuto, una delle domande più ricorrenti è ma cosa ne pensi dei chetoni esogeni, ma cosa ne pensi di come si usano, ma cosa ne pensi di quello che promettono e così via. Quindi questo inizio, quindi questa miniserie vuole essere un po' chiarificatrice, almeno che spieghi in generale come funzionano i chetoni esogeni, che cosa sono e come vanno utilizzati in maniera intelligente, non come vi promettono di utilizzarli e di spesso e volentieri buttare via discreti soldi. Ok? Quindi questo è l'obiettivo di questi video che andremo a fare in successione. Vediamo intanto di capire in che ambienti ci stiamo muovendo, quindi in che, come dire, ecosistema metabolico ci stiamo muovendo. Noi abbiamo i chetoni. Ok, i chetoni che sono il nostro carburante principale quando siamo in dieta chetogenica per l'appunto, ovvero saranno la fonte primaria di energia per costruire ovviamente ATP e poi essere utilizzato dalle cellule nella maggior parte delle nostre cellule corporee. Ok? In primis il cervello, ma poi anche i muscoli e così via. Quindi queste molecole vengono prodotte nel nostro fegato per supplire appunto poi le richieste energetiche che il nostro corpo avrà, in alternativa ovviamente alla molecola principale che di solito è il glucosio. Questo è un po' l'ambiente in cui ci troviamo. E questi chetoni sono di tre tipi, ovvero l'acetone, l'acetone che è un chetone abbastanza famoso perché sia nei bambini ma anche negli adulti, quando abbiamo delle produzioni di acetone, questo viene eliminato perverso la respirazione e dunque abbiamo quel sapore dolciastro in bocca che è uno dei sintomi appunto della presenza di chetosi nel nostro corpo. Abbiamo l'aceto acetato, che è un altro dei nostri chetoni, ma il principale nostro chetone di utilizzo è il BHB, a breve, che è il beta-idrossibutirato, che è la molecola diciamo di utilizzo principale nel nostro organismo. Ok? Quindi è la molecola e il chetone principale. Questi chetoni sono in equilibrio fra di loro, quindi in realtà quando c'è un eccesso di beta-idrossibutirato si produce più acetone, dell'aceto acetato viceversa. Quindi tutto confluisce nell'adere sufficiente BHB e quando ce n'è troppo vengono prodotte più specie di questo tipo, perché è il BHB il nostro, diciamo, carburante principale rispetto ai tre chetoni che abbiamo. Ora, questi sono, potremmo chiamarli, i nostri chetoni endogeni, cioè i nostri chetoni che produciamo, ok, in maniera autonoma, in maniera sostanzialmente naturale, ok, chiamiamola così, in maniera fisiologica di produrre questi tipi di carburante di riserva. Invece, quello che abbiamo è la possibilità di utilizzare i chetoni esogeni, quindi i chetoni che vengono immessi in realtà dall'esterno, con la promessa di mantenere, quindi, un livello di chetosi più alto, ok, o comunque sufficiente. Quindi, attraverso le produzioni endogene di chetoni o attraverso l'emissione dall'esterno, per via orale ovviamente, principalmente, di chetoni esogeni, l'obiettivo è di fatto lo stesso, quindi mantenere o aumentare, perché no, i nostri livelli di chetosi sanguigna. Quindi questo è, diciamo, l'ecosistema attorno a cui andiamo a muoverci e dentro cui ci muoviamo. Nel prossimo video andremo a vedere invece che tipo di forme di chetoni esogeni troviamo e il loro pro e il loro contro. Ci vediamo al prossimo video.